Oggi, signori, si chiude ufficialmente il mercato di gennaio della Fiorentina, in entrata ovviamente, in uscita, poi ovviamente si vedrà. Ma il mercato in entrata oggi è ufficialmente finito. Allora, quindi il bilancio, se non mi dimentico nessuno, è Malea, Giugno, Kohorin, perché Kakorin non si può sentire, quindi Kohorin, e adesso Malquit. E allora ragazzi, vedi però, vedi ho fatto bene ad aspettare un attimo prima di farlo il video di Malquit, perché fino a due giorni fa era un prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni, adesso invece è un prestito secco. Come mi aspettavo effettivamente, me lo aspettavo io ragazzi, un prestito secco, vi dico la verità. Allora ragazzi, diciamo che in generale per questo calciomercato, visto che alla fine ci avevano detto che non ci saremmo dovuti aspettare niente, perché probabilmente non avrebbero fatto grossi rivoluzioni, che effettivamente non hanno fatto, però diciamo che hanno dato via un attaccante per un attaccante, hanno dato via un esterno per un terzino, perché Malquit non è un esterno, è un terzino. E abbiamo preso un centrocampista barra trequartista di prospettiva comunque per l'anno prossimo. Allora, lasciando perdere Kokorin, che a proposito, per chi non l'ha visto, ho fatto il video appunto dedicato solo a lui, che è il video uscito sul canale prima di questo, per chi non l'avesse visto, insomma, vi invito dopo questo video a andarlo a rivedere. E niente ragazzi, allora, riguardante Malquit, Malquit ragazzi, Malquit arriva con un prestito secco e questo ragazzi è la riprova che la società a giugno farà una rivoluzione, molto probabilmente, perché te in questo momento hai preso, mi dispiace per il ragazzo quasi, hai preso un ragazzo che con Ancelotti ha dimostrato anche, cioè insomma, giocava e ha dimostrato anche di saperci stare in campo, perché poi ragazzi, parliamoci chiaro, cioè te al Napoli, insomma, se ci sei c'è un motivo, anche se tu fai la riserva in questo momento comunque, e ovviamente io a essere esterno di destra, oppure venuti i titolari tutto l'anno, io non ce la facevo a vedere, gli ero un colpo al cuore ragazzi. Certo, se tu l'ha preso per tenerlo in panchina, due domande me le faccio però, però spero insomma che, a parte le prime due, una o due partite per ambientarsi, che ci sta insomma tutte queste cazzate, e poi dalle prossime poi giocherà, insomma, diciamo dopo l'Inter, magari se tu me lo fai vedere in campo io sarei contento, tipo contro la Samp per capirsi. E allora ragazzi, io che cosa ho da dirvi di Malquith? Direi che è un giocatore che quest'anno praticamente non l'abbiamo quasi mai visto, perché appunto gioca a Di Lorenzo su quella fascia, ma con Ancelotti abbiamo potuto ammirarlo, tra virgolette, Sì, scusate, che cazzo sto di stop e di tre quartista, te le immagini, sto veramente dormendo. Terzino, non esterno di centrocampo, quindi insomma lui se viene come Casere se è venuti alla fine, perché tutte e tre fanno un ruolo che non è il loro alla fine, viene per fare appunto un ruolo inedito. Io in realtà sono contento che arrivi questo ragazzo, diciamo che sono contento perché arrivi lui, mi dispiace per il fatto che arrivi in prestito secco, perché alla fine lui non c'entra niente, nel senso viene qui a fare un po' di gavetta, magari a giocare qualche partita in più rispetto a Napoli, ma sinceramente, ripeto, io come ho detto gli altri video, non ho capito l'operazione di Lerola, non l'ho veramente capita, perché te me lo mandi via in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia per prendermi un ragazzo che non fa l'esterno di centrocampo, ma fa il terzino lui, o perlomeno all'esterno di centrocampo non ci ha mai giocato, poi magari sei in grado di giocarci, un altro discorso, io non l'ho mai visto giocare in un 3-5-2, e praticamente tu mandi via un ragazzo più giovane per prendere un ragazzo più, tra virgolette, anziano calcisticamente, e me lo prendi in prestito secco perché tanto sai che a giugno poi si cambia mezza squadra. Mi può anche andare bene, perché questo appunto, ripeto, è la conferma di questa cosa qui, di quest'operazione se vuole fare. A me Malquit mi può anche andare bene, perché tanto per sei mesi poi magari se ti piace tu lo va a comprare, tu lo ridà a Napoli, poi se ti è piaciuto magari tu lo compri. Sì, ma sono quelle operazioni di mercato alla fine fine a se stessi, proprio Malquit è la rappresentazione di un'operazione di mercato fine a se stessa, per tappare un buco, cioè nel senso è l'operazione di mercato per tappare un buco. Perché se te tu prendi, cioè se te tu c'hai su quella fascia Caceres e Venuti, che giocano appunto in un ruolo che non è il loro, e ovviamente non si possono vedere lì tutto l'anno, per carità di signore, tu mi vai a prendere un altro. Infatti, appunto, per riprova di questa cosa, Conti è appunto la riprova di questa cosa, perché Conti non è venuto a Firenze per questo discorso, perché in Milan non te lo voleva dare a prestito secco. Cioè, te di sicuro tu l'avresti voluto prendere in prestito secco per fare tutto questo discorso qua, e però in Milan non te l'ha voluto dare a prestito secco. Ti dici, o tu lo pigli con diritto di riscatto, o se no non te lo diamo, perché a noi non ci conviene ovviamente. A Napoli molto probabilmente sì, perché tanto molto probabilmente c'hanno altre alternative, oltre al fatto che non gioca mai questo puoro ragazzo francese, e quindi magari a Napoli gli è convenuto. Magari per fargli fare un po' di gavetta, per fargli riprendere un attimo il ritmo, visto che non giocava da un po'. E ragazzi, mi fate sapere la vostra sotto commenti, perché è una di quelle operazioni di mercato che non... Ripeto, sono fini a se stesse, sono fini a se stesse, è per tappare un buco. È per tappare un buco, perché poi tu lo mandi via, ti manca proprio un pezzo nella tua scacchiera dei titolari, poi tu lo mandi via a fine anno, e poi dal prossimo anno, insomma, nel mercato estivo si vedrà i che combineranno. Come cohorin, io ragazzi assolutamente non lo voglio condannare sin dall'inizio di quest'operazione, anche se gioca, appunto, ripeto, in un ruolo inedito, ma bisogna appunto vederlo in campo. Bisogna vederlo in campo, bisogna vedere come va il ragazzo, certo, ripeto, andrà via a giugno, quindi anche se magari potesse far bene, non penso che comunque la società poi lo andrà a prendere da Napoli, perché comunque a Napoli sono sordi se se lo fanno prendere a questo ragazzo, nonostante non ci abbia vent'anni, ma comunque sono sordi. Ripeto ragazzi, il nostro mercato in questo momento è finito, testa al Torino per le prossime partite, contento per l'arrivo di tutti questi ragazzi, e ora vediamo se il campo ci darà ragione e se queste operazioni di mercato sono veramente servite a qualcosa per salvarci, perlomeno quest'anno, in tranquillità, in tranquillità, perché chi pensa che si possa andare anche solo in Europa e c'è un briciolo di speranza per andare in Europa, ci siamo capiti.